Ciao a tutti, oggi prepareremo la mousse alla vaniglia con granella di pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più il tempo di riposo in frigo. Ingredienti sono yogurt alla vaniglia, panna per dolci messa 45 minuti in congelatore, aroma di vaniglia, zucchero e granella di pistacchi. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame, versare la panna e facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è perfettamente montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Aggiungere l'aroma di vaniglia, lo yogurt ed amalgamare con la spatola. Riponiamolo in frigo per almeno 30 minuti prima di servire. Musso alla vaniglia con granella di pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta! . Musso alla vaniglia. Grazie a tutti.